La ciotola Piazza Marinai d'Italia 10 a Portoferraio. La partita per mantenere la sede di staccata del Tribunale a Portoferraio è ancora aperta e gli avvocati stanno facendo tutto quanto è possibile per evitare la sua soppressione e il trasferimento di tutte le pratiche nella sede centrale a Livorno. Serve però l'aiuto del territorio e il tempo stringe. È l'appello che fa l'Associazione Forense tramite il suo presidente, l'avvocato Paolo Di Tursi, dopo una trasferta romana insieme ad un gruppo di colleghi, dove è apparso chiaro che bisogna darsi da fare tutti insieme per ottenere qualcosa. Una delegazione di avvocati elbani, eravamo circa 15 colleghi, si sono recati a Roma il 29 e il 30 di maggio con un dubbio obiettivo. Il primo, la giornata del 29, l'abbiamo dedicata all'incontro con alcuni parlamentari. Il giorno successivo abbiamo partecipato ad una manifestazione nazionale indetta dal nostro organismo unitario dell'avvocatura sulla questione della riforma della geografia giudiziaria e quindi sulla soppressione della nostra sezione di staccata. Prima abbiamo incontrato alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle e poi nell'ordine abbiamo incontrato l'onorevole Silvia Velo. Da questi colloqui è emerso sostanzialmente che c'è una posizione attualmente condivisa da parte di tutte le forze politiche di rinviare l'entrata in vigore della riforma sulla geografia giudiziaria. Questo perché i parlamentari hanno preso atto che ci sono delle realtà fortemente svantaggiate che subirebbero dei danni enormi dall'entrata in vigore del decreto. Il problema è costituito dal fatto che vi è una sostanziale opposizione da parte del Governo e del Ministro che invece ritengono indispensabile che la riforma entri in vigore immediatamente, quindi a settembre, e che poi semmai in seguito si facciano degli aggiustamenti sulle realtà più svantaggiate. Sembra che in questi giorni si stia dando corso a una serie di trattative per cercare una soluzione condivisa, che potrebbe essere quella di far entrare sì il decreto legge in vigore a settembre, ma portare alcune modifiche tutelando alcune realtà particolari. In queste realtà particolari dovrebbe, e speriamo che ciò accada, dovrebbero rientrare anche le isole minori. In questo senso, quindi, bisognerà in questi giorni proprio dar corso ad una serie di iniziative attraverso i mezzi di informazione, attraverso la cittadinanza, per sollecitare tutti i nostri parlamentari e i parlamentari della Toscana a tutelare un territorio così disagiato come quello dell'Isola d'Elba. Questi concetti si sono riaffermati il giorno successivo nella manifestazione nazionale dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dove abbiamo potuto notare la forte presenza politica, una componente molto forte che tutelava tutte le singole realtà e questo ovviamente ci lascia preoccupati perché il nostro territorio ha bisogno di un'adeguata e identica tutela rispetto alle altre realtà. Quindi il nostro obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, i mezzi di informazione e i politici della Toscana intera va in questa direzione, cioè affinché gli elbani abbiano le stesse possibilità di mantenere il loro ufficio rispetto alle altre realtà del territorio. Nei prossimi giorni gli Avvocati invieranno un comunicato alle associazioni e alle istituzioni del territorio con un testo da girare a tutti i parlamentari di riferimento della Toscana. E mettere in moto quel meccanismo che serve per sensibilizzare tutte le forze politiche.